Una parte della popolazione molisana non è vaccinata e mentre si va verso il completamento della fase di somministrazione della prima dose ai tanti che hanno aderito, Regione Asrem lanciano un nuovo appello agli scettici e promuovono un altro Vax Day. Questa è l'unica risposta possibile alla pandemia, si legge nella nota in cui l'azienda sanitaria del Molise annuncia che sabato prossimo, 21 agosto, all'ospedale Cardarelli di Campobasso, si procederà alla somministrazione di mille dosi del siero Pfizer senza prenotazione e senza limite di fascia d'età. I cittadini dai 12 anni in su che non si sono ancora immunizzati potranno quindi presentarsi al centro vaccinale del presidio sanitario del capoluogo dalle ore 8 alle ore 20. L'evento è stato organizzato dall'Asrem con la partecipazione di Rotary, Lions e Avis. Le associazioni con i loro volontari forniranno un contributo nella gestione degli accessi. Gli utenti dovranno presentarsi moniti di documento di riconoscimento, tessera sanitaria e nel caso si tratti di minori delle necessarie deleghe e delle autorizzazioni di entrambi i genitori. L'aumento dei contagi e il contestuale incremento dei ricoveri da Covid-19 hanno indotto le autorità ad amplificare un messaggio che parla di prevenzione e di aiuto reciproco, da qui l'invito ad aderire tramite la piattaforma online e a contrastare il virus col vaccino.